Ha cercato di intimorire gli ispettori dell'Asle che dopo aver controllato la ditta di confezioni gestita dalla moglie si apprestavano a sequestrarla. Quando gli sono stati chiesti alcuni documenti, l'uomo ha tirato fuori una pistola dal cassetto e l'ha appoggiata in modo plateale sul tavolo davanti agli esseri fatti ispettori. E' accaduto ieri mattina in via Strozzi quando si sono vissuti momenti di tensione durante uno dei controlli straordinari disposti dalla regione in seguito alla tragedia di via Toscana. Gli ispettori, di fronte al comportamento dell'uomo, un cinese di 38 anni, hanno quindi chiamato il 113 che ha subito inviato una pattuglia delle volanti. I poliziotti hanno recuperato l'arma appurando che era una scacciacani fedele riproduzione dell'originale e priva del tappo rosso. L'uomo è stato quindi denunciato per minaccia aggravata mentre la pistola giocattolo è stata sequestrata visto l'uso palesemente intimidatorio che ne era stato fatto.